L'ARPA ha presentato i suoi dati, tutti normali, tutti in calandone, non sentono probabilmente la popolazione che vive a Servola. Noi abbiamo presentato i nostri dati, quelli dell'esame dell'urine, che certificano che ci possono essere gravi malattie nel rione di Servola. Poi abbiamo anche appreso che l'altoforno è rotto, per cui è infermo tecnico, i sindacati non sapevano nulla, insomma qualcosa di bene, qualcosa di male. Ho chiesto anche che sul tavolo, sindacati, sindaco, regione, ci siano anche i cittadini, perché sono loro quelli che sono più esposti, per cui ho chiesto che siano presenti i cittadini. I sindacati mi hanno detto che i cittadini sono rappresentati dal sindaco, adesso sentirò i vari movimenti ambientalisti e poi decideremo.